Eeeh, bella a tutti ragazzi e benvenuti in questo mio nuovo video, oggi siamo qua tornati con Christian177 su una mappa che ha creato lui, dove ci sono vari vini games e dove lui mi sfiderà, dove ci sfideremo Ok, beh, spiegato già tutto, quindi Giusto, sì Allora, questo video uscirà su entrambi i canali, prima uscirà sul mio canale Eeeh, a 24 ore di distanza uscirà sul canale anche di Ray Gamer, trovate comunque, dato che uscirà prima sul mio, sul mio, sul mio Il suo canale in descrizione, quindi vi invito poi a passare e vedere entrambe le prospettive di gioco Eeeh, a 50 like a questo video sfiderò un altro youtuber, quindi voi consigliatemelo sempre lasciando in fondo nei commenti Hashtag sfida e scrivate, scrivate, scrivete il nome di chi vorreste che lo sfida Quindi, eeeh, procediamo, iniziamo, ti ho già attivato tutto Certo Eeeh, con quale vuoi iniziare? Va, guarda, iniziamo con, eeeh, va, io direi questo qua delle, delle due cose qua, del ponte Vuoi fare questo? Sì Ok Allora, il mio compito è di proteggere la torre, la tower e il ponte Quindi lui correrà su quel ponte lì Io dovrò, da questa postazione, non devo uscire dal, da questa zona dove ci sono i lapisblattuli Non posso uscire da questa zona e devo riuscire a spingere giù al via Quindi, eeeh, lui ha tre tentativi per raggiungere quella zona lì Eeeh, e poi ci scambieremo i ruoli, quindi chi poi ci ha messo meno tentativi, vince Si aggiudica il punto Eh, ti deserci solo il volo, così, non schiacci per raggiungere Esatto Parti tu quando vuoi Esatto Va bene Pronti, partenza Via Cazzo Ok No, merda No, merda Merda, 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 merda Merda, no, merda Merda, merda, merda Ok Merda Eh, a lui non piaceva tanto quelle cose con gli archi, cazzo, no Ok, primo punto, cioè, primo, lui, ok, hai altri due tentativi, si Sì 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 Quindi al primo tentativo l'ha fatto Sì Sì Vabbè Vai Guardi quando vuoi, se ti mangio la patata Vai Vado 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 Adesso c'è partito già Aia, sei passata davvero una freccia raso puro Sì No Cazzo Uh 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 Ok Vai Taglia Ok Merda formula Che Cazzo, cazzo, porca troia Ma di sicuro, no, merda Due, due tentativi Che tassi del cazzo che sono questi Ok Dio Ultima tentativa Allora, ti dico solo Se adesso perdi questo terzo tentativo Poi Poi è un po' così Sì, sì Ok, vai sempre il via quando vuoi tu Pronti Partenza, via Ok, tutto è normale, non è successo niente Tre Ci sei, sì? Vai, ci sei Ok, tre Due Una Via Porca troia Oh, cosa? Ora mi hai colpito Aio Ho sentito proprio via 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 il primo punto della torre è stato giudicato a me, ok mi suicido eh madonna sono immortale ok primo punto, ora scegli tu il secondo dove vuoi fare pvp quello che vuoi facciamo le porte qua in merda ok arriva al fondo della passerella dobbiamo semplicemente trovare trovarci e ucciderci una volta che sei arrivato al fondo da me via ci disattiviamo va bene ok ci sono ok questo è singolo quindi chi muore muore 3,2,1 via ok ci siamo abbiamo disattivato mince ho già perso tutta la vita ok cerchiamo di farla quindi ci spostiamo molto rapidamente perché io direi di recuperare vita in questa maniera quindi lasciamo una patata lì che dovrebbe tenere la porta aperta ok quindi sappiamo quando si chiude la porta perché sta arrivando lui noi mangiamo la patata e quella porta cerchiamo di aprirla così ok per far rumore allora lui dovrebbe essere nei dintorni noi lo aspettiamo eccolo lì è vicino è vicino ok mi mancano i due cuori cazzo prendi sti due cuori di me chiudili ah grande ok ci sei grande questo è il punto dell'opera di tutela ok eh non ti puoi suicidare da lì quindi ti porto su io faccio solo ammazzare così perdila roma adesso ok quindi siamo uno pari uno pari ok perfetto se uno pari già qui iniziano a giocare scegli il secondo allora se tu ne scelgo ma non ti piace quello che l'abbiamo fatto ma ecco che ma se la giù si 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 2 1 ok 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 qua c'è allora praticamente c'è però io sei cadici sulle scalette è tipo un pvp parkour nella l'acqua si cerchiamo di giocarci la l'astuzia allora vediamo io salgo qui quanto mi fa uh tac 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 mi sparo questo non ci chiede che non mi ha fatto salto il buco percorrere proprio lì cazzo dai 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 così 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 cazzo si così ok dai così sai cosa qua ok la dura ma sono un demente eh eh dai buttata l'ho lanciata vaffanculo cazzo tu sei qua non ci credo eh sì ciao eh sì eh te la succedi mi canto adesso ok ok allora secondo punto ce l'ho sempre allora oh se mi davvi un colpo giuro che morivo ero senza completamente armatura sì adesso vado un minuto allora ok quindi il primo punto lo prendi il secondo punto quindi siamo 2 a 1 giusto? ah se allora spawn a spawn b dovevo andare spawn b ok quando prima di arrivare lì allora qua ci leviamo la voce ok 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 prima di arrivare fai 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 dammi il via io disattivo ok 3 2 1 via ok ora siamo di nuovo da soli andiamo di tattica pura quindi io direi subito ora raggiungiamo quella cesta lì in fondo prendiamo u buono allora io direi ci leviamo il nome così con la invisibilità e lo raggiungiamo se l'è levato anche lui gioco d'astuzia ci è andato d'astuzia io direi però di provare ad arrivargli da dietro in modo violento proprio se non ha girato già all'interno della zona mi sa che è già entrato dentro ok o altre due pozioni buono ce le teniamo di scorta madonna dai che lo ammazziamo dai che lo ammazziamo si oh cazzo mi sono dimenticato l'armatura eh quello che ti ha fregato allora mi è piaciuto è stata abbastanza combattuta come cosa naturalmente io giocavo in casa quindi ho avuto un po' più di fortuna diciamo e vuoi aggiungere qualcosa allora io vi ricordo di lasciare un like ad entrambi i video se vi è piaciuto questo minigame se ne volete degli altri se volete anche magari che io e lui facciamo altre serie insieme fatecelo sapere comunque nei commenti ci fa piacere sapere esatto queste cose collaborazioni ricordo che il suo video uscirà 24 ore dopo questo qua vi lascerò in ogni caso il suo il link del suo canale in descrizione passate poi a vedere anche il suo video per avere più prospettive per vedere entrambe le prospettive di gioco tutti gli stili e quindi se vuoi aggiungere qualcosa niente ti volevo fare soltanto i complimenti per questa mappa qua grazie che veramente l'hai fatta molto bene grazie mille allora se poi vuoi dato che stiamo ah vorrei anche ringraziare voi che siamo arrivati praticamente subito a 100 like quindi avrete il download di questa mappa in descrizione ti invito anche te a scaricarlo se vuoi con i miei amici e quindi eh che dire bella a tutti ragazzi al prossimo video bella ragazzi